Siamo infatti alla seconda edizione di questo importante video, il importante appuntamento, Micro Cup Conference, che è la conferenza dedicata all'incontro tra le aziende quotate e l'economia finanziaria. Sono molto contento di avere con noi, di ritrovare, perché l'abbiamo intervistato anche non moltissimo tempo fa, il dottor Marco Gaglia, amministratore delegato di Digital Magics, che è una società che è quotata su AIM Italia, è un business incubator che supporta le start-up del mondo tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business digitale. Molte cose, vorrei solo sottolineare che Digital Magics, Stale Garden e Tamburo Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale per il digital made in Italy, offrendo alle start-up innovative il supporto per creare progetti di successo dall'ideazione dell'IPO. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che complementare a tutti i servizi che offre sono le attività di investimento che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre partecipazioni in start-up, scale-up e spin-off digitali con alte tassi di crescita. Il dottor Marco Gaglia non sta mai fermo per cui ci sono tre cose importanti che dobbiamo trattare, che rappresentano degli importanti punti dell'attività di Digital Magics. Intanto il nuovo piano industriale 2021-2025, poi l'elenco nell'ordine, poi l'investimento da parte di Lewis di 2,5 milioni nel capitale per l'avvio di una partnership strategica che vuole creare un po' lo protagonista del processo di innovazione industriale italiano. E poi appunto all'aumento di capitale legato anche alle scelte che hanno fatto il piano industriale che sono molto interessanti. Da dove partiamo dottor Gai? Buongiorno innanzitutto e grazie sempre per il coinvolgimento. Ma io partirei dal piano industriale che è un po' il motore poi di tutti gli avvenimenti e le modifiche e le attività che stiamo facendo. Piano industriale che ha un gol ben preciso e il gol è raggiungere 100 milioni di valore del nostro portafoglio. Oggi il nostro portafoglio per 79 partecipate attive ha un valore di 53 milioni di euro. L'obiettivo è da qua al 2025 raddoppiare sostanzialmente questo valore. Anzi mi verrebbe da dire entro il 2025 perché chiaramente la nostra ambizione, l'ambizione Digital Magics è che questo avvenga prima per dare sia soddisfazione ai nostri investitori sia un riscontro sulla velocità e anche quindi il cambiamento del paese in atto sulla digitalizzazione. Che in questo momento comunque quando si pensa alla digitalizzazione si parla anche di PNRR e sulla missione 1 che è quella che riguarda la nostra attività si va a modificare, a trasformare, a implementare questo ecosistema con quasi 50 miliardi di investimenti. Il piano industriale è fatto da programmi di accelerazione su settori su cui noi siamo già operativi e vediamo un grandissimo sviluppo. Quindi Fintech Insurtech è un programma di accelerazione che adesso è in corso con la partecipazione di Cassa Depositi Prestiti, Startup Bootcamp, Fintech District sia come soci con noi e più il mondo industriale del settore con i primari istituti di credito assicurativi. 5G IoT quindi la nuova frontiera tecnologica per le telecomunicazioni che vede partecipi istituzionali come compagnia di San Paolo e player industriali i più rinomati da Cisco a Unipol per poi andare avanti con altri programmi di accelerazione, sostenibilità che abbiamo già fatto e altri come intelligenza artificiale. Questo vuol dire che arriveremo a fine periodo ad avere oltre 200 partecipazioni e una capacità al netto dei rate off che fanno parte anche della nostra attività e me però non tutti possono essere campioni ma soprattutto dell'exit un valore del portafoglio da 100 milioni, di almeno 100 milioni di euro. Per fare questo abbiamo fatto un aumento di capitale funzionale al piano industriale, aumento di capitale che in 25 giorni e questo lo dico con grande soddisfazione è stato interamente sottoscritto dal mercato per tutti gli 8 milioni e quindi questa per noi è stata non solo una conferma di cosa stiamo facendo ma soprattutto della bontà del piano industriale che è stata senza inoptato sottoscritta interamente al mercato. Ultima notizia è proprio l'aumento di capitale riservato che vedrà il coinvolgimento dell'università Luis Guido Carli per diventare con la Luis e con gli altri nostri soci un polo strategico per l'innovazione industriale del paese. Quindi insomma siamo in fermento, stiamo lavorando molto e stiamo lavorando devo dire bene con riscontri al mercato e anche da partner strategici che da una parte come Tamburo Investing Partner che il nostro primo azionista continua ad essere al nostro fianco con convinzione e altri soci come quello della Luis che in questo momento è entrato, entrerà, pardon, con l'assemblea del 16 dicembre nell'azionariato di Digital Major. Quindi siamo soddisfatti e ci stiamo dando da fare. Senta l'ottor Guy, più in generale che momento vive il mercato diciamo così del digitale quindi dell'ecosistema delle imprese? Che sta succedendo nelle imprese italiane? Questa poi spinta verso il digitale è così corale o ci sono zone d'ombra? Che succederà? Ragioniamo fa due o tre anni. Come sarà? Cinque anni il livello delle imprese italiane? Io credo che sia un momento di grandissimo fermento in cui il digitale è oggettivamente visto come il moltiplicatore del valore, del valore aggiunto che le industrie tradizionali mettono in campo oltre che come semplificatore, penso alla pubblica amministrazione, da qui questa mole di investimenti. Per quanto riguarda il nostro settore siamo in un momento in cui si trovavano paesi come Francia, Spagna e Germania cinque anni fa, cioè in quel punto in cui la curva di investimenti sta crescendo e c'è la partenza verso un'escalation importantissima. Basti pensare che in questo momento noi abbiamo esattamente il cambio di passo della curva di crescita dell'ecosistema del digitale delle start-up italiane che hanno avuto questi paesi pochi anni fa e siamo oltretutto accelerati da una consapevolezza e quindi fra tre anni vedo un paese dove il valore aggiunto sarà determinato sicuramente da un'industria innovativa che vedrà il digitale al suo fianco e vedrà l'ecosistema delle start-up come un pilastro di questa industria. Quindi secondo lei diciamo l'Italia non solo ha cambiato marcia ma può anche recuperare quegli anni insomma, quel tempo un po' perduto? Io credo di sì, oggi stiamo col PIL che cresce al 6.3-6.4% recuperando il periodo pandemico. Non bisogna dimenticare che torniamo al 31-12-19 dove si cresceva dello 0, ma oggi c'è una grande differenza e il mercato lo sta rilevando. Infatti si parla di crescere l'anno prossimo del 4% e se penso al mercato digitale l'anno prossimo crescerà almeno del 5,5%. Quindi non solo si recupera, è per fortuna un periodo molto complicato in cui tutti stiamo cercando di uscire insieme, questo è l'altro fattore, ma c'è anche una prospettiva di crescita importante e questo permette al nostro ecosistema di farne parte, di essere protagonisti. Senta, parlando di ecosistema ho visto la dichiarazione che l'ha rilasciato proprio nella partnership, in occasione dell'annuncio della partnership con lui. Lei ha insistito molto su questa cosa di fare sistema che è un po' il tema di oggi. Le chiedo, in Italia oggi è possibile, oltre che auspicabile ovviamente, perché quello che ci manca a noi sono sempre le azioni di sistema, la collaborazione di sistema eccetera rispetto a tanti grandi paesi, ma anche lì vede un cambio di passo o saremo sempre, insomma, la faremo sempre un po' all'italiana questo ecosistema a livello di fare sistema? Io in realtà il cambio di passo lo vedo e soprattutto noi lo stiamo mettendo in campo, noi i nostri soci siamo convicti di questo e quindi lo stiamo facendo, ma credo che, guardi, lo sintetizzo forse un po' così, è stato un periodo talmente traumatico per tutti i settori e per tutti i cittadini che oggi abbiamo capito finalmente, spero che poi si concretizzi sempre di più, che insieme si può fare la differenza. E quindi fare sistema vuol dire aiutare le industrie a crescere in termini di filiera e quindi l'attenzione che in questo momento viene data alle filiere con la loro vocazione e visione globale ne è un segnale. Ora non bisogna abbassare la guardia, i numeri ci stanno dando ragione, ci stanno confortando per il futuro, bisogna realizzarli e non bisogna distrarsi perché questo può essere un cammino lungo e di soddisfazione per tutti. Bene, io ringrazio davvero moltissimo l'amministratore delegato, ossia fate voi Marco Gai di Digital Magics, un'intervista quanto mai opportuna nell'ambito di GEMS, che è questa micro cap conference importante che appunto è dedicata all'incontro tra le aziende quotate e l'economia finanziaria ed è alla seconda edizione, anche perché dicevo valeva la pena perché avete visto il menu che ha presentato Digital Magics, era veramente importante e significativo e faccio complimenti a Marco Gai. Grazie mille. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti.